E' rimasta senza ingrassare, ecco cosa mangio Il pasto più importante è quello alla fine del video, ricordatelo Il primo pasto della giornata, la colazione, il pre-workout, riso, carboidrati complessi, tofu, proteine, barbabietola Ottimo pre-workout per aumentare il pump e poi l'hummus pieno di proteine, allenamento e poi post-workout Ricco di zuccheri e cioccolato Poi il piatto più importante della giornata, il piatto vuoto Hai capito benissimo, pratico il digiuno intermittente, 16 ore di digiuno, 8 ore di alimentazione Mangio 4500 calorie di vise in due pasti al giorno Per vedere tutti i benefici ricordati di seguirmi Grazie